Hanno ottenuto un incontro con la Direzione regionale della prevenzione a cui vogliono chiedere di effettuare i biomonitoraggi nell'area metropolitana veneziana dove insiste il termovalorizzatore. Alcuni componenti dei comitati no all'inceneritore di Fusina si sono recati davanti alla sede di Venezia per sollecitare una risposta. Sembra che entro febbraio ci sia una convocazione ufficiale, però noi diciamo che è importante accelerare su questo versante perché è necessario capire lo stato di salute della popolazione e capire quant'è l'accumulo di inquinanti, soprattutto di microinquinanti come i PFAS, come le diossine o come i metalli pesanti nella popolazione e soprattutto nei bambini prima poi di autorizzare interventi, infrastrutture, opere, impianti come l'inceneritore di Fusina che vanno a aumentare ancora di più il carico di inquinamento sul territorio. Una linea dell'inceneritore è già operativa ma l'azione dei comitati con il ricorso al TAR ha rallentato l'attivazione e bloccato al momento quella di altre due linee. Se ad aprile la sentenza non sarà favorevole, i comitati sono pronti a rivolgersi in Europa. È una realtà che è stata autorizzata ma secondo noi con gravi carenze di istruttoria, in particolare nella valutazione di impatto ambientale ed è soprattutto una scelta sbagliata, una scelta legata a logiche vecchie, proprio fossili, perché in questa situazione dove viviamo una crisi globale da un punto di vista ecologico, la crisi climatica è l'emblema, noi dobbiamo andare in tutt'altra direzione, quindi dobbiamo andare verso il recupero della materia non verso lo smaltimento, si tratti di discarico di inceneritori non importa, noi dobbiamo recuperare materia, dobbiamo smettere di bruciare perché bruciare non è la soluzione e ha comunque un impatto sull'ambiente, sulla salute di chi vive intorno a questi grandi impianti su una vasta aria, indipendentemente dal fatto che siano inceneritori moderni, cioè filtri o non filtri questi impianti inquinano tantissimo. E' importantissimo